signori è arrivata oggi finalmente vi posso parlare della motosega batteria della ego la cs 1400 e sono molto contento di questo arrivo perché era un po che ci facevo il filo e mettetevi comodi perché sarà un video un po lungo un po tecnico soprattutto nella prima parte e vi lascio in sovrimpressione poi i minuti da cui parte il video con i test all'aperto ci sarà da divertirsi perché io sono appassionato un po di questi utensili e questa è la mia prima motosega a batteria che riesco a provare e quindi la esaminerò in tutti i dettagli anche per voi perché se siete interessati un attrezzo del genere guardate questo video perché vi può venire utile soprattutto per la gestione dei dettagli ci vediamo dopo la sigla allora rieccoci sul canale gentilmente ego mi ha inviato questa motosega io la chiamo motosega ma è batteria non è a motore allora voi arriverà chi l'acquisterà ovviamente la motosega senza batterie perché come vi dicevo nell'altro video il pacco batterie e carica batterie visto ci sono un sacco di potenza a disposizione lo potete acquistare a parte questa è la batteria che io ho utilizzato per il soffiatore ed è del tutto compatibile ovviamente con la motosega ora prima di inserirla voglio montare la motosega dopo la inseriamo insieme e vediamo un po come si comporta e carica al 100 per cento così come prescrive il produttore cominciamo con l'esame tecnico io parto sempre dal peso è questo per quanto riguarda le motoseghe è un aspetto importante da tenere in considerazione adesso la peso senza barra e senza niente 3,4 kg vedrete con la barra montata con la catena dovrebbe arrivare intorno ai 3,8 kg 3,8 kg e 50 ma lo vediamo dopo la batteria pesa sempre 2,9 kg va da sé che arriviamo intorno ai 6 kg 6,5 kg non è un peso piuma non è una motosega che si può portare sugli alberi per fare srammature in alta quota perché comunque ha il suo peso non è da potatura ecco quello che voglio dire quelle da potatura a scoppio arriviamo intorno ai 2 kg e mezzo 3 kg questa pesa circa il doppio ha un'altra funzione ovviamente è tutta un'altra comodità lo vediamo dopo nel frattempo vediamo le caratteristiche principali e poi la montiamo in dotazione avrete il libretto di istruzioni multilingue c'è anche l'italiano l'estensione di garanzia se si registra il prodotto il corpo macchina barra da 35 centimetri 14 pollici catene di quelle standard non parliamo di vidia o metallo duro vi riporto in sovraimpressione i dati tecnici della motosega comunque funziona a 56 volt e può ospitare batterie da 2,5 10 ampere importante che siano nella versione arc litium questa qui a 56 volt ecco questo è il dato importante poi per quanto riguarda l'amperaggio questo ad esempio un 7,5 ampere la differenza soltanto nel tempo di utilizzo ovviamente e del peso perché quella 2,5 è molto più leggero ma ovviamente dura di meno allora guardiamo innanzitutto i comandi principali abbiamo il grilletto con la doppia sicurezza perché finché non si preme questo pulsante sopra l'impugnatura non si aziona il grilletto è on off acceso spento sede della batteria sgancio della batteria e come tutte le motoseghe elettriche scoppio batteria e quant'altro c'è il serbatoio dell'olio l'olio è un olio specifico per catena per lubrificazione dopo vi farò vedere il riempimento e quale utilizzo io vi lascio insieme in pressione quello che utilizzo normalmente è un buon olio non risparmiate sull'olio sulla catena perché poi le conseguenze si pagano la lunga soprattutto non utilizzate olio esausto perché qualche assassino lo fa e inquina oltre il dovuto questo olio che si utilizza generalmente è biodegradabile quindi un minimo un minimo di occhio per ciò che ci circonda lo dobbiamo avere non utilizziamo cose che non vanno bene perché veramente inquiniamo a dismisura qui abbiamo la finestra trasparente dove possiamo vedere il livello dell'olio questo è molto importante non c'è dappertutto ad esempio sulla mia vecchia motosega quella scoppio la tanaka non c'è da questa parte abbiamo un qualcosa che se avete una motosega moderna più o meno ci sarete abituati io che ho una motosega molto vecchia per me è una cosa di lusso parlo del regolatore di tensione della catena io ho ancora quello a vite che si mette di qua quindi bisogna svitare prendere un cacciavite insomma un lavoro un pochino più laborioso questo invece è uno spettacolo si svita intanto il porta lama questa operazione andrà fatta anche quando si dovrà regolare nel senso bisognerà allentare leggermente il porta lama per poi permettere lo slittamento della catena ve lo faccio vedere per la tensione e dopodiché si riferma senza attrezzi senza utensili ovviamente ecco qui abbiamo il pignone abbiamo la regolazione della lama ecco guardate vedete io adesso svito in senso anti orario e regolo così la distanza del fermo che mi regolerà la tensione poi della catena vi consiglio di leggere attentamente le istruzioni d'uso perché ci sono alcuni punti che la differiscono ovviamente da remonto serie è importante saperlo qui abbiamo il freno catena ve la faccio vedere dopo una volta montata perché più semplice da far vedere con la catena inserita e con la macchina in movimento che in questo modo qui comunque sappiate che ha la stessa tipologia di funzionamento di quelle a scoppio ovviamente con in più la particolarità che questa ferma completamente la macchina essendo batteria un interruttore all'interno che gestisce la macchina in modo diverso se vogliamo un pochino più sicuro anche iniziamo col montaggio della catena allora prepariamo la barra con la catena vi faccio prima vedere come va infilata la barra la barra vedete va incastrata in questo modo qui questo è il registro vi ho fatto vedere prima che si muove con la manopola sopra di registrazione quindi una volta che avremo infilato la catena sarà solidale al pignone la catena tramite questo fermo qui potremo far scorrere tutta la barra avanti o indietro così da avere una tensione corretta della catena stessa allora la catena va registrata a freddo non a caldo perché cosa succede a freddo a una certa lunghezza a caldo le maglie si scaldano e tendono ad allargarsi un attimino quindi vedrete che con l'utilizzo la catena comincerà a pendere ovvero avrà perso la sua regolazione principale si fa raffreddare e poi si regola nuovamente soprattutto quando è nuova tenete conto che se la regolate troppo giusta a caldo quando poi si raffredda lei si tira e rischia di non scorrere più all'interno della lama la lama nella parte anteriore vedete ha un ingranaggio che scorre e permette quindi alla catena di scorrere all'interno della lama ok vediamo poi il verso di montaggio se la lama si monta in questa direzione qui ovviamente la catena farà questo giro no allora se voi guardate così non vi potete sbagliare spero che si veda vi metto contro luce sopra ogni maglia c'è una freccia che indica la direzione di funzionamento quindi il montaggio corretto in questo caso è questo inserisco dentro la maglia faccio in modo che i denti entrino dentro la lama ho regolato al minimo la tensione della lama vedete sono arrivato a fine battuta ho inserito la lama all'interno dei denti del pignone adesso avvitando gli do un po' di tensione giusto per non farla muovere dopo farò la tensione quella corretta i più attenti avranno notato che a differenza delle motoseghe quelle a scoppio non c'è il freno catena quello manuale che su cui agisce la leva quella che vi sto indicando adesso ovvero anche la leva di sicurezza manuale quando io non utilizzo la motosega ma ho il motore acceso aziono questa leva blocco tutto il movimento della catena e quel blocco lì agisce sul meccanismo che c'è qui dentro in questo caso ovviamente non c'è è tutto molto più semplice perché abbiamo un interruttore qui che fa la stessa funzione come vi accennavo prima ecco arrivo a battuta torno un po indietro allento e adesso facciamo la tensione così è troppo è troppo lenta siamo a metà della barra più o meno posso fare uno scatto alla volta è molto sensibile ci siamo quasi così ci siamo vedete comunque tenete conto che dopo il primo utilizzo dopo i primi minuti dovrò far raffreddare e regolare nuovamente una volta che ho raggiunto la tensione corretta posso chiudere e lei è stabile eccola qui ora mettiamo l'olio colleghiamo la batteria facciamo un po di movimenti qui a vuoto in casa facendo molta attenzione e poi la andiamo a provare fuori solo due parole su questa motosega qui è molto molto semplice da utilizzare troppo semplice da utilizzare rispetto a quella a scoppio questa ha il vantaggio ne ha tanti di vantaggi in realtà non bisogna fare la miscela non bisogna cambiare la membrana praticamente una volta all'anno del carburatore vi lascio qui se avete le membrane a cambiare la copertina del video dove vi faccio vedere come si fa non bisogna pulire il carburatore non bisogna pulire i filtri di benzina e dell'aria questa non ha niente ed è sempre pronta all'uso noi inseriamo la batteria la batteria è carica la catena è ben regolata allora a quel punto noi premiamo schiacciamo e lei parte è di una semplicità devastante questo però non ci deve far abbassare la guardia perché comunque una motosega qua ci si fa male quindi i dpi bisogna averli sempre a disposizione dpi sono dispositivi di protezione individuale ovvero i guanti gli occhiali soprattutto quelli sono indispensabili le cuffie pantaloni lunghi mi raccomando io ho visto dei video dove provano le motosega due pantaloni corti sono dei matti scatenati non lo farei mai se dovete fare un lavoro lungo anche i gambali di protezione che vi riparano le gambe e se dovete fare abbattimento di alberi ci vogliono i vestiti di protezione antitaglio i pantaloni antitaglio le giacche quant'altro vi possono salvare la vita io non farò abbattimento di alberi non è il mio mestiere io sono un hobbista taglio soltanto pochi quintali di legna all'anno 30 40 quelli che mi capitano e soprattutto taglio i tronchi che mi arrivano già pretagliati quindi alla fin fine io più che sramatura e taglio di piccoli tronchetti non faccio ho preparato fuori già alcuni tronchi da poter tagliare e quindi detto questo che mi premeva dirvelo perché è importante non farsi male quando si lavora con questi soprattutto se non siamo professionisti come non lo sono io detto questo riempiamo di olio e cominciamo ad azionarlo vi faccio vedere l'olio che utilizzo io è della stiga ovviamente gli esperti diranno che c'è di meglio ma a me interessa poco perché questo io lo utilizzo da molti anni praticamente sono 4 5 anni che utilizzo questo olio qui non ho mai mai avuto problemi e come vi dicevo il bio degradabile ed è specifico per catene dell'olio olio catena eccolo qua quindi non acquistate cose diverse poi ogni marca ogni azienda al suo olio ma vanno bene più o meno tutti insomma allora ho messo un tovagliolo sotto perché tanto lo so che mi uscirà ok utilizzo l'imbuto da lavoro troverete sporco perché è da lavoro piano piano non ce ne va molto sono 150 millilitri per esperienza sappiate che a prescindere da quanto ne mettiate uscirà sempre fuori sono arrivato all'orlo mi fermo sono stato bravo che non l'ho sporcato per terra ok il produttore giustamente e appoggio questa sua soluzione dice di staccare la batteria per qualunque tipo di lavorazione che dobbiamo fare sulla motosega sia manutenzione ordinaria che straordinaria il discorso è chiaro con quelli a scoppio si spegne il motore e non abbiamo rischi di nessun tipo qui è un attimo muovere e schiacciare il grilletto e se stiamo lavorando sulla lama se stiamo lavorando da qualche parte qui intorno ci facciamo male ecco qua ora la pesiamo così com'è pronta per lavorare 6 kg e 6 in ordine di lavoro completo è come vi dicevo siamo ai livelli di una motosega robusta quelle da abbattimento quelle con catene leggermente più grandi ma tutto sommato vi dicevo io non sono un professionista quindi per fare un lavoro robista secondo me i vantaggi superano gli svantaggi tra gli svantaggi troviamo il peso di 6 kg e 6 ma tutto il resto lo vediamo adesso ecco allora guardate così ho il freno motore disinserito mentre se la inserisco come dicevo qui dentro c'è un interruttore che disabilita completamente l'avvio del motore e questa secondo me è una cosa buona è un vantaggio rispetto ai motori a scoppio perché su quella scoppio anche se inseriamo la sicurezza almeno sulla mia è che non è nuova quando io premo un po gira lo stesso sforza ovviamente ma gira in questo caso viene completamente inibito il movimento notate che quando io premo per metterla in moto si accendono le spie delle di segnalazione dello stato di carica siamo a 4 su 5 quindi la metterò a caricare ecco vedete come interviene è una sicurezza importantissima se avete motoseghe che non ce l'hanno buttate le via perché questa vi può veramente salvare la vita il produttore ovviamente da delle nozioni base per utilizzare la motosega io sono dell'idea che è un utensile pericoloso a prescindere quindi se non l'avete mai utilizzato non vi improvvisate fatevi aiutare a qualcuno fatevi spiegare come funziona almeno le cose base per esempio non utilizzarla mai sopra l'altezza delle spalle per esempio mettere sempre bene i piedi per terra saldi avere sempre una via di fuga non avere intorno ai piedi ostacoli che in caso di emergenza uno si muove e inciampa se dovete fare un abbattimento controllato quindi tagliare la parte superiore poi sotto se non l'avete mai fatto non lo fate io non lo faccio per esempio io chiamo un professionista lo faccio fare e io arrivo fin dove arrivo dove non arrivo lascio lì e non mi interessa perché ci si fa male con questa quindi non salite sulle scale non salite sugli alberi e cercate di avere sempre addosso dispositivi di protezione individuali come vi dicevo prima occhiali guanti cuffie scarpe antinfortunistiche ovviamente se tagliate rami un po più alti mettetevi un casco di protezione e detto questo metto a caricare la batteria e ci vediamo fuori per il test di taglio allora siamo pronti a fare primo test abbiamo un tronco di circa 11 cm è una barzelletta vedete nello sfondo anche il nuovo cavalletto della ore con dovrebbe uscire il video a breve lo acquistato proprio in questi giorni su amazon e quindi il primo taglio che faccio semplicemente siamo già pronti a lavorare occhiali mi raccomando guanti cuffie e via e burro vediamo un po dai ne facciamo un altro ora ovviamente parliamo della qualità del taglio e quello lo fa la catena la catena è nuova e il taglio molto bello cambio angolazione stesso tronchetto 11 cm non ha sentito niente cambio un po vediamo cambiamo tronchetto allora quanto abbiamo qui abbiamo 18 cm circa le immagini non sono accelerate non sono tagliate è solo per farvi vedere in tempo reale come taglia questa motosega qui ne facciamo un altro adesso provo a simulare il ritorno il rimbalzo della lama semplicemente utilizzerò la sicura facendo finta che mi sia tornata indietro la lama ok termino il taglio e poi la faccio dall'altra angolazione riprovo da un'altra angolazione e simulo di nuovo l'intervento del freno del freno d'emergenza vedete l'interruzione è completa e totale e non c'è più possibilità di riaccendere la macchina fino a quando io non riapro la sicurezza avete visto che adesso ho chiuso il manuale dopo il taglio questo è un riflesso che ho dalla motosega a scoppio perché ho l'abitudine quando finisco il taglio di mettere la sicura per bloccare la lama è una motosega vecchia la mia quindi se ho il motore un po accelerato la catena gira ed è una cosa che è molto pericolosa sulle macchine nuove probabilmente questo non succede quindi io quando finisco di tagliare con quella scoppio metto la sicura in questo caso ovviamente non c'è bisogno cambiamo tronchetto abbiamo l'ultimo il più grosso adesso vi dico il diametro abbiamo un diametro di circa 25 cm che non è poco è un bel tronco vediamo come va rifaccio il taglio ragazzi che meraviglia è davvero uno spettacolo tiriamo le somme dai bene siamo giunti alla fine è stato un video molto lungo mi dispiace per questo ma volevo entrare nei dettagli ringrazio ego per avermi mandato questa macchina in test mi preme dirvi che io raramente su questo canale ho sposato una causa l'ho sempre detto ho cercato sempre di essere super partners però la filosofia che c'è dietro l'elettrificato le macchine batteria mi hanno completamente assorbito mi hanno convinto per me che sono un piccolo vista ecco ho notato che a prescindere dal costo in questo caso dal peso i vantaggi superano ampiamente gli svantaggi non fa odore non fa rumore è sempre pronta all'uso la batteria è una multiruolo la tolgo dalla motosega la metto sul decespugliatore la tolgo la decespugliatore la metto sul tosaerba poi la metto sul soffiatore la stessa batteria che si carica in 40 minuti con caricabatterie rapido che ho in dotazione davvero il tempo di mangiarsi un panino e ripartire magari con un altro tipo di lavoro questo non ha prezzo non vanno più revisionati i carburatori non va più registrato è un mondo completamente diverso e i lavori che riuscivo a fare prima con la mia motosega che era una semiprofessionale dell'epoca con questa li faccio ampiamente certo pesa 6 kg abbondanti è vero però c'è da dire che tornando al discorso della finalità di utilizzo io che non sono un professionista e la uso per 2 3 4 5 ore una giornata ecco è una cosa abbastanza fattibile non devo fare abbattimenti di alberi non deve essere il mio lavoro insomma quindi la tengo riposta carico la batteria quando mi serve controllo solo l'olio della catena e riparto questo per chi ha poco tempo a disposizione è un plus incredibile bene vi lascio nelle note alcuni link del motosega delle batterie le caricabatterie insomma di una configurazione completa se vi interessa andate a vedervi poi i prezzi è vero costa un po di più ma è un investimento che si ammortizza in pochissimi anni e anche perché la batteria dura parecchie migliaia di cicli di ricarica e quindi essendo sempre pronta all'uso come vi dicevo i vantaggi superano gli svantaggi grazie per essere arrivati a questo punto iscrivetevi al canale lasciate un like cliccate sulla campanella condividete il video aiutatemi a far crescere questo canale vi ringrazio per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata